Navlab è un consorzio che nasce nel 2003, nasce raggruppando una serie di software house con già allora un'ultradecennale esperienza nel mondo dell'informatica e che ha come caratteristica quella di aver creato un unico gruppo centralizzato che supporta le attività di marketing commerciali e tecniche offrendo così delle importanti sinergie in un mercato in grande evoluzione come quello dell'informatica applicativa per le piccole e medie imprese italiane. Il consorzio si rivolge prevalentemente alle aziende della PMI italiana e proprio per questo tipo di caratteristica all'interno abbiamo pensato che uno dei punti di forza fosse quello di sviluppare un prodotto che si chiama Tempo Zero per Microsoft Dynamics e Nav che consentisse agli imprenditori e alle aziende una serie di possibilità aggiuntive per partire velocemente, per risolvere i propri problemi, per trovarsi allineati con un prodotto importante come quello di un ERP internazionale come quello di Microsoft Dynamics Nav che però deve adattarsi a una realtà tipicamente italiana con le sue specificità, con le sue complicazioni, con i suoi punti di forza che difficilmente sono individuabili in un mercato internazionale e globale come quello affrontato da Microsoft. Negli anni abbiamo ottenuto importanti successi, importanti riconoscimenti, oggi siamo una realtà che fattura 60 milioni di euro con 350 addetti che operano sul mercato, con una copertura praticamente completa del territorio nazionale e con, devo dire, una caratteristica che è quella di essere composta da persone di buon senso, persone che quindi sanno adattare la propria professionalità, la propria competenza a un mondo che è quello dell'informatica non sempre semplice, non sempre lineare, non sempre facilmente spandardizzabile. Nel mondo delle costruzioni abbiamo numerosi casi di successo di aziende che abbiamo meccanizzato e per le quali abbiamo fornito delle soluzioni applicative. Forse uno dei più significativi, io oserei dire anche dei più divertenti è stato quello, il progetto della 4Build che è nato con l'obiettivo di creare un pilota automatico che potesse seguire tutti i processi all'interno delle diverse aziende che compongono la 4Build per poter offrire agli utenti, ai loro clienti sostanzialmente, la possibilità di vedere in un'unica azienda i dati che le singole realtà possono offrire. Questo progetto che si è avviato parecchi anni fa, oggi è qualcosa di reale, consolidato e funzionante, in continua evoluzione anche perché, come sapete, il vostro mercato è un mercato che in questo momento sta proponendo scelte, diciamo così, stimolanti, per non dire difficili. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti